Nella storia della marina sovietica, nessun marinaio è mai salito su un sottomarino come il K-19. È il migliore del mondo. A voi è stato concesso l'onore di esserne l'equipaggio. Io ho avuto l'onore di esserne il comandante. Senza di me, voi non siete niente. Senza di voi, io non sono niente. Ci si aspetta molto da noi. E noi non falliremo. Porta sfortuna. Grazie. 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 Grazie.